Ben trovati con il TGLIS di Telebari. Le eventuali emergenze sanitarie che dovessero riguardare i leader del G7 o comunque quelle di gravità maggiore verranno affidate al Policlinico di Bari. Le altre necessità ordinarie saranno invece assegnate al Perrino di Brindisi. Nell'uno o nell'altro caso a partire da martedì 11 ci saranno limitazioni alla attività ordinaria per garantire assistenza H24 alle delegazioni ai giornalisti e al personale impegnato a servizio del Vertice. E questo in estrema sintesi il piano sanitario che la Regione ha in vista del G7 che si svolgerà dal 13 al 15 giugno a Borgo e Ignazia. Due persone, un uomo e una donna, sono state arrestate dai carabinieri del Comando Provinciale di Bari perché ritenute responsabili del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Nei loro confronti è stato eseguito un provvedimento emesso dal GIP del Tribunale. La mano d'opera veniva sottopagata circa 4,60 euro all'ora a fronte degli 11 euro previsti dalla legge. L'attività investigativa denominata Caporalis ha interessato la campagna agricola nel periodo maggio-luglio 2021. E adesso le altre notizie del TGLIS. Partono le procedure per l'assegnazione delle borse di studio per l'anno scolastico 2023-2024 e per la fornitura gratuita dei libri di testo per il biegno 2024-2025. La misura borse di studio prevede l'erogazione di contributi del valore medio di 200 euro per gli studenti pugliesi che abbiano frequentato nel corrente anno scolastico le scuole superiori e appartenenti alle famiglie a basso reddito. L'investimento complessivo è 7.825.000 euro. Tante novità nell'ambito della viabilità ciclabile, pedonale e su quattro ruote. La Giunta Comunale ha approvato una delibera di variazione al programma triennale delle opere pubbliche 2024-2026 che dovrà essere ratificata dal Consiglio Comunale il prossimo 15 giugno. La variazione riguarda progetti che miglioreranno trasporti e mobilità. Si parte con un investimento di 423.000 euro per l'efficientamento della sicurezza stradale dei pedoni con la realizzazione di attraversamenti pedonali semaforizzati in cinque incroci critici della città finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nelle scorse ore si è tenuto il sopralluogo all'interno dell'impianto sportivo comunale Leo dell'Acqua a Carbonara. I lavori, come scrive la Presidente del Municipio Grazia Albergo, sono in dirittura d'arrivo. L'intervento ha visto la realizzazione di un campo da calcio a sette in erba sintetica, una superficie attrezzata per la pallacanestro e la pallavolo, una pista per la corsa, un campo da bocce, un'area giochi per bambini e una ludico-ricreativa. Arriva la prima ondata di calore sull'Italia con picchi di temperatura fino a 40 gradi previsti per il weekend. L'anticiclone africano Scipione porta con sé masse d'aria subtropicale continentale dal Sahara, cariche di umidità, caldo torrido anche in Puglia. Già da venerdì le temperature inizieranno a salire, con picchi previsti tra domenica e lunedì. E adesso le notizie dall'area metropolitana e dalla Regione. Avrebbero avvicinato un noto imprenditore del sub Appennino Dauno chiedendo di versare la somma di 20.000 euro quale contributo per la campagna elettorale per le elezioni comunali di Foggia nel 2023, prospettando benefici per l'impresa. A rifiuto di versare la somma richiesta, sarebbero seguite minacce anche di morte nei confronti dell'imprenditore e dei suoi familiari da parte dell'esponente politico. Nel frattempo escluso dalla tornata elettorale, perché dichiarato incandidabile, i finanzieri del Comando Provinciale di Foggia hanno dato esecuzione al provvedimento del giudice per le indagini preliminari, che ha disposto misure cautelari a carico dei due indagati per tentata estorsione aggravata. Uno dei due destinatari del provvedimento era candidato alla carica di consigliere comunale alle elezioni comunali di Foggia nel 2023. Il Consiglio di Stato sblocca lo stallo sull'Iter per la realizzazione di un impianto fotovoltaico galleggiante che servirà ad elettrificare le banchine con particolare riferimento ai due approdi della banchina San Cataldo dove arrivano le navi da crociera. L'impianto occuperà un'area di 23 ettari e sarà collocato tra la vasca di colmata di punta rondinella e lo specchio di mare antistante. A Gallipoli, carabinieri forestali hanno denunciato a piede libero la proprietaria di un fondo agricolo sorpresa mentre appiccava fuoco nella propria proprietà ad un cumulo di rifiuti per lo più costituiti da vecchi indumenti. L'incendio che nelle intenzioni doveva restare limitato all'accumulo si è però esteso anche alle zone confinanti aggredendo circa due etteri e mezzo fra oliveti e terreni incolti. L'intervento dei vigili del fuoco ha evitato che l'evento assumesse dimensioni maggiori e più preoccupanti. La donna deve rispondere dei reati di combustione illecita di rifiuti e incendio colposo. La questura di Barletta Andrea Trani si prepara ad accogliere l'arrivo di 65 nuovi agenti di polizia di Stato. I nuovi agenti previsti nel piano degli innesti graduali presentato lo scorso anno in Prefittura dal Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi saranno spalmati nelle sedi della sesta provincia che ne avranno maggiore necessità. E con il TGLIS è tutto. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento. Grazie per aver guardato il video.